e siamo in diretta da Sanremo con Renzo Rubino e con la sua ospite del duetto di questa sera Simona Molinari. Sì, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Renzo, ciao. Contento di questo passaggio di ora, del pezzo ora? Sì, sì, sono contento. È un pezzo che ha uno slogan, secondo me, molto forte che può servire a chi decide di ascoltarlo. Ora è un guardarsi allo specchio e chiedersi ma io sono contento della mia quotidianità, sono soddisfatto di me stesso. Molto spesso, secondo me, davvero veniamo incastrati dalle nostre giornate. Proviamo a costruire davvero il futuro ma non ricordiamo che esiste anche un presente, quindi è una sorta di carpe diem. A proposito di presente carpe diem, questa sera farete scintille con un pezzo di Gaber. Abbiamo già preparato le fiammelle. Le fiammelle. Sai che sono le fiammelle? Quelle con... E che accendi il palco. Sala ci dovranno mettere un sacco di accendini. Sarà bello, insomma. Sarà bello, molto romantico. Potete anticiparci qualcos'altro? Ma io ci saranno anche i Daft Punk, che poi non sono in realtà Daft Punk, sono due signori con le maschere. Ma si può dire che io calo con un'altalena dall'alto? Sì, puoi dire. Però ragazzi, per vedere tutto questo dovete aspettare stasera e guardarci. Esatto, fino a quando non usciremo. Poi dopo potete fare quello che volete. Simona, a differenza dell'anno scorso che eri nella categoria campioni, sei più rilassata oppure il palco dell'Ariston fa venire sempre la tremarella anche quando si è ospiti? Ma adesso sono rilassata. Poi si sa, l'ansia da prestazione arriva quei cinque secondi prima di salire sul palco. Fortunatamente dura quei cinque secondi e basta, perché poi dopo quando sei sul palco e inizi a cantare finisce tutto. Però sarà una bella emozione. Poi sono contentissima di vivere questa cosa accanto a Renzo, che è un grandissimo artista e un grandissimo autore. Renzo, anche quest'anno... Tutto a posto? No, tutto bene. Tutto ok? Grazie Simone. Prima abbiamo rischiato il palco, poi dopo adesso il braccio. Il braccio. Tu porti ogni anno questo cactus Ugo, che ha tanti Ughini quest'anno. Quest'anno ne ho preso un altro, ma prima che sapessi di Sanremo, prima che sapessi di tutto, in realtà non sapevo nulla. Ho detto, ma sai che c'è quest'anno? Ne prendo un altro. Ma come fai a trasportarlo? In valigia è impossibile. In valigia non si può. Io vengo in macchina. E lo metti dietro? Sì, lo metto davanti con la cintura lacciata. Con tanti Ughini, quindi. Sì, sono in due. Quest'anno c'è Ugo e Ughini. È lo stesso Ugo dello scorso anno. Quindi è un po' come... Non so se hai qualche animale domestico tu? Nessuno, purtroppo. Chi ha animali domestici? Che ne so, anche un cane. Magari capita che deve andare fuori per qualsiasi cosa e quindi il cane si lascia a un parente o un amico e si consiglia sempre di portare un pupazzetto o la sua cuccia, insomma qualcosa di familiare. E i miei cactus mi fanno sentire a casa anche in stanza di albergo perché ce li ho a casa. Eh sì. La serata di sabato come ti preparerai? Quanto sarebbe importante per te la vittoria? Ma la vittoria non è importante. È importante lasciare un segno, un graffio, lasciare qualcosa a chi ascolta. L'importante è davvero lasciare un segno. Poi i premi ovviamente fanno piacere e vanno a premiare uno staff di lavoro, uno staff non solo una persona, un artista, ma una serie di impegni e sacrifici, ma chiunque poi lo vinca, no? E fa tantissimo piacere. Però noi... Io mi sento un po' outsider e vado avanti così, insomma. Vado avanti, vado lì, mi diverto e cerco di far passare la musica prima di tutto. Un segno l'hai lasciato perché sei un cantautore straordinario. Cioè incanti quando suoni su quel palco. Grazie. Dopo Sanremo, lo chiedo anche a te poi, Simona, che cosa succederà? Che cosa farai? Ma noi partiremo con un tour. Saremo in diversi teatri italiani. Ci sono già le date. E poi, insomma, suoneremo tanto e andrà avanti così per un po'. A ottobre inizieremo a pensare di fare una tournée all'estero. Minase è in Francia. Insomma, incrociamo le dita, ecco. Mentre io vengo da un tour bellissimo e è concluso il tour italiano. Adesso, al marzo, gli ultimi due concerti con tutta la mia band. La Mosca Jazz Band è a Mosca, appunto. E poi, diciamo, faccio, diciamo, una pausa discografica per tre, quattro mesi e mi ricarico all'interno. Mi chiudo in teatro perché sarò nel musical Jesus Christ Superstar, insieme a Ted Neely, che è l'attore principale del film, insieme a Inegrita, insieme a tutto un bellissimo cast. Per cui sono impegnata nel ruolo della Maddalena. Benissimo. Grazie di essere ritornata qui da noi a Radio Bruno, Simona Molinari. E grazie, grazie a Renzo Rubini. Grazie. Ci vediamo. Ciao. Grazie a tutti.